Buongiorno, il mio nome è Angelo Uge, siamo presenti alla settimana della bioarchitettura della domotica tramite il progetto VeriSchool che si occupa all'interno di un programma europeo di implementare un sistema per la gestione del calore nelle scuole e che richiede come parte importante della sua implementazione un sistema di building automation system. La Doki, che è la componente del gruppo SCE che ha implementato la tecnologia, è presente e ha già sviluppato e implementato il primo impianto pilota nella scuola di Lesa nella provincia di Novara. L'impianto è funzionante ed è servito per accumulare l'esperienza che ci consentirà di esportare lo stesso modello in tutti gli altri tre impianti piloti previsti, uno in Italia e altri due in Portogallo e in Bulgaria. Sulla base di questa esperienza abbiamo visto che già la scuola produce una seria riduzione dei consumi di energetiche ma soprattutto il primo feedback è arrivato dai responsabili della scuola che c'è una migliore atmosfera, migliore clima perché con il sistema d'occhi è possibile controllare la temperatura creando dei microclimi in uno per ogni aula o ogni ambiente. Finora siamo agli inizi degli esperimenti ma il sistema d'occhi sembra rispondere molto bene alle richieste che ci sono venuti dal consorzio Veri School.